Tutti con il naso all'insù. Il fascino delle frecce tricolore che mancavano a Rimini dal 2019 ancora una volta non ha tradito le attese in un crescendo iniziato intorno alle 16 col volo dell'elicottero del quindicesimo stormo che davanti alla spiaggia ha calato la bandiera nazionale accompagnata da un aerosoccorritore sulle note del lino di Mameli. La dimostrazione di ricerca e soccorso dell'elicottero militare ha dato il via al programma di volo acrobatico che ha visto anche il lancio di quattro carabinieri paracadutisti sulla spiaggia davanti a Piazzale Kennedy, cuore dell'evento. Il momento clou intorno alle 18 con l'arrivo dall'aeroporto militare di Cervia delle frecce tricolore della pattuglia acrobatica nazionale. Mezz'ora di evoluzioni ben visibili da tutto il litorale che hanno richiamato lo sguardo di tutti, bagnanti e non verso un cielo azzurro tinto di verde, bianco e rosso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.